Il Vangelo di questa domenica è un Vangelo serissimo, è un Vangelo che mette sull'attenti soprattutto coloro che hanno un'autorità, coloro che hanno una responsabilità, in sé parla di una malattia, una malattia da cui dobbiamo guardarci con tutti noi stessi. La prima lettura introduce questo tema così serio, così grave, con un richiamo molto, molto severo da parte del Signore, parla ai suoi sacerdoti, i quali hanno deviato dalla retta via e sono stati d'inciampo a molti con il loro insegnamento. Essere d'inciampo a qualcuno, qualcosa di molto serio, cioè ostacolare la via del bene, della vita, della grazia, della pienezza a qualcuno. Questo è l'enigma della nostra potenzialità. Una persona che ha un ministero, che ha una missione da Dio, un sacerdote e tutti gli altri ministeri che ci sono nella Chiesa, che sono parte dell'opera della salvezza e che passa per queste mediazioni umane, che sono articolate in varia maniera. Ecco, una persona che ha un ministero ha insieme una potenzialità di bene straordinaria e una potenzialità di male, non piccola, non indifferente. Si può diventare l'ostacolo, l'impedimento alla fede di qualcuno. È qualcosa di gravissimo, di imbarazzante, è qualcosa che fa tremare, perché di fatto noi abbiamo a che fare con qualche cosa. questo mistero, un po' ispiegabile, in una qualche maniera Dio ha scelto di salvarci con il nostro servizio reciproco, cioè di servirsi delle mediazioni umane per arrivare a dare la sua bellezza a noi. In una qualche maniera noi riceviamo il Vangelo sempre da qualcuno, c'è sempre qualcuno che ce lo porta. E qual è il dramma? Quando c'è una scissione fra quello che questo qualcuno porta e quello che questo qualcuno è. Il vero problema qui è infatti di questi farisei che dicono e non fanno, cioè hanno una parola ma non hanno una brassia, hanno una scissione. questo mondo separato fra la realtà della verità di cui uno è canale e quello che uno è. Diceva Donoreste Benzi una cosa molto bella, ciò che sei grida più forte di ciò che dici. Questa è una delle grandi problematiche della nostra avventura spirituale, quella di avere una scissione esistenziale fra ciò che di fatto realmente operiamo e ciò che noi pensiamo di fare, fra il pensiero e la carne. Non essere integrati, essere separati. Allora cosa succede? Come succede che uno divenga un espettoratore falso di cose vere? Uno viva questa paradosso, questa contraddizione. È interessante l'analisi che fa Gesù in questo Vangelo. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente e inizia a descrivere tutte queste opere di vanagloria, di autoaffermazione. Ecco è lì il problema. Quando l'ego si inghiotte la vita. Quando una paura che riguarda la nostra identità diventa il motore principale di quello che facciamo. Per cui uno è diventato lo schiavo di se stesso. Essere ammirati dalla gente. Non essere qualcosa, ma essere ammirati. Non fare qualche cosa, ma ottenere il rinuncimento di questo qualche cosa. Tanto che questo ci può portare a vivere in un paradosso drammatico, tragico. Addirittura fare atti di carità, atti che apparentemente sono fatti per amore, farli solamente per il culto della propria immagine. Noi dobbiamo avere questa cura di non diventare gli schiavi di noi stessi, di non diventare i cagnolini al guinzaglio del nostro ego, di questa brama di autoaffermazione. Abbiamo bisogno di avere un maestro per la vita e non essere i maestri della vita. Abbiamo bisogno di essere figli del padre e non porci con nostro paternalismo. Abbiamo bisogno di essere costantemente guidati e non metterci davanti agli altri come guide. Chi è quello che veramente poi di fatto esercita l'insegnamento bene? Colui che ha un cuore da discepolo, colui che sta costantemente apprendendo. Chi è colui che esercita la paternità comunque si presenti in maniera efficace? Colui che vive da figlio, colui che sta nel posto primario dell'origine della sapienza paterna, che è l'esperienza di aver incontrato il padre vero. Chi è che sa guidare gli altri? Chi si è lasciato guidare? Chi conosce la sfida dell'essere guidati? Quindi lo saprà fare con quella dose, con quella misura, con quell'equilibrio che è necessario per guidare gli altri. E allora qui si tratta di capire una cosa, di vedere come la paura, l'ansia, la tensione per il nostro ego può diventare la tomba della nostra vita. Ed ecco che possiamo proclamare il Signore Gesù, colui che non ha avuto come centro del suo agire umano niente altro che la gloria del Padre e niente altro che l'amore verso di noi. Vivere in relazione o vivere inghiottiti da se stessi. Il Signore Gesù inaugura una vita meravigliosa, quella per cui noi possiamo essere relazione e non autoreferenzialità. Per questo ci vuole la sua resurrezione, perché si deve sbloccare qualcosa di profondo in noi, deve essere rotto un chiavistello interiore che è quello della nostra paura. Nel Signore Gesù noi possiamo diventare persone che vivono non più per quello che gli altri dicono di loro, che non vivono più per la vana gloria, ma vivono per la gloria, quella vera, quella di Dio.